Ora i soldati ucraini scappano, l'effetto Kursk è finito, sentiamo. Kursk è finito, i soldati ucraini non vogliono sparare, scappano dal fronte e di fronte al nemico si ritirano. E non sono io a dirlo, ma è l'Associated Press in un articolo molto interessante che ti lascio in descrizione, lo lascio in descrizione per tutti gli abbonati ovviamente, a proposito lascia mi piace prima di andare avanti, virgolettato. Ma com'è? Non le dicono televisioni queste cose? Beh, allora ve le dice qualcun altro. E anche se ravvino mazzoni. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti.